allora buongiorno rabbino dottor disegni è un piacere intervistarla la ringrazio per la disponibilità senta entrerei subito in merito con una prima domanda siccome io ho ascoltato un suo intervento alcuni giorni fa presso una manifestazione in cui le veniva conferito un premio al deutsche istituto il premio le è stato conferito dall'associazione nazionale presidi del lazio in quell'intervento lei ha fatto riferimento ad alcune parti della cultura ebraica e anche della storia ebraica che sono meno conosciute in italia ho capito bene ci sono queste parti se si fa riferimento a quello che si studia nelle scuole o in generale ciò che è conosciuto nelle scuole si studia il mondo ebraico antico poi questo questo mondo ebraico scompare dai libri di testo se non per cegni assolutamente eh così casuali e e poi ce lo ritroviamo nella storia del novecento soprattutto per quanto riguarda eh la la seconda guerra mondiale esistono eh privato dei dei buchi storici che fino hanno fatto gli ebrei dove stavano che facevano e poi esistono dei buchi eh ancora più gravi che sono quelli culturali non si sa assolutamente nulla della eh tradizione religiosa ebraica della loro fede eh di quello che gli ebrei hanno eh hanno fatto hanno contributo dal punto di vista hanno contribuito dal punto di vista del pensiero alla formazione del del nostro pensiero anche dal punto di vista religioso prevale una una tradizione antica secondo la quale gli ebrei sono quelli che hanno prodotto quello che viene chiamato a noi non ci piace come definizione l'antico testamento dopodiché è è arrivato il nuovo e e quindi dal punto di vista religioso e culturale gli ebrei hanno svolto il loro ruolo che si è esaurito nella storia in quel momento e non c'è stato più niente quindi si ignora completamente eh quello la produzione culturale religiosa ebraica e nei millenni successivi sono buchi notevoli se poi parliamo delle delle cose normali che succedono che fanno gli ebrei che tu incontri per strada eh qual è la loro religione qual è la loro qual è il loro pensiero qual è la loro eh differenza di comportamento qual è il loro giorno di festa che cosa mangiano eh tutte queste cose eh nel grande pubblico sono eh sono sono ridotte a poche informazioni eh le vorrei fare una domanda se se non sono indiscreto ma lei è eh un uomo di fede eh vorrei sapere come prega in questi giorni di guerra di guerra eh nel mondo glielo chiedo perché io per esempio non so se la preghiera nel mondo cristiano e nel mondo ebraico si connotino in maniera diversa se sì ecco ci spieghi come come funziona il tema della preghiera nel cristianesimo e anche le preghiere diciamo istituzionali penso al pater nostro sono ispirate a preghiere ebraiche noi abbiamo una preghiera che è il cadisce in cui si usano praticamente le stesse parole che poi si ritrovano nel pater nostro e nell'ebraismo la preghiera è un un'espressione fondamentale della religiosità e quindi noi abbiamo tempi fissi per la preghiera e che sono tre volte al giorno e di sabato ci dedichiamo di più alla preghiera la preghiera si svolge eh preferibilmente nelle case di preghiera cioè nelle sinagoche perché la preghiera eh ha maggior senso quando è fatta collettivamente eh ed è un elemento fondamentale della nostra tradizione nelle nostre prechiere noi usiamo moltissimi moltissimi brani della Bibbia specialmente dal libro dei salmi e in questo modo anche la tradizione cristiana eh segue questo modello d'esempio e ehm se uno entra in una chiesa chiede veramente che si svolge un determinato rito che si è consolidato che ha un significato e così via ma se si eh analizzassero le singole parti della preghiera cristiana si potrebbe vedere quanto questa sia strettamente legata a alle sue origini ebraiche origini che come dicevo prima l'ebraismo ha mantenuto e ha sviluppato senta dottor disegno prima di entrare un po' nell'attualità le vorrei rivolgere una domanda che ha un contenuto filosofico o teologico se vuole perché penso che sia il momento di volare alto poi magari scenderemo nel prosieguo di di questa intervista e vorrei fare riferimento ad un libro scritto da un filosofo tedesco di di origine ebraica che è Hans Jonas il quale ha scritto dopo la Shoah il concetto di Dio dopo Auschwitz e si è posto questa domanda ehm è avvenuta la Shoah ma questo forse non mette in dubbio alcune caratteristiche della divinità tra le quali l'onnipotenza e in fondo oggi eh che accadono comunque eventi negativi seppur di diversi da da la Shoah ci troviamo di fronte a degli orrori delle delle tragedie ecco tutto questo non non mette in crisi la tradizionale visione di Dio? Eh bisogna vedere qual è la tradizionale visione di Dio? Eh chiaramente si tratta di un problema teologico filosofico concettuale molto complicato da ehm da trattare e che rappresenta una sfida per qualsiasi persona che si pone un problema di fede eh la chiave essenziale del problema purtroppo banalizzo e semplifico è che eh l'onnipotenza divina eh si è quasi ritratta ha lasciato uno spazio nella creazione dell'uomo lasciandogli la possibilità di decidere e quindi l'uomo è libero di decidere esiste il libero arbitrio e se è libero di decidere può fare sia il bene che il male e quindi il male nel mondo almeno la parte di male che deriva dal comportamento umano fa fa parte diciamo della licenza che Dio ha concesso all'uomo facendolo creatura meravigliosa ma sempre perfettibile. Senta eh adesso vorrei passare all'antisemitismo quindi scendere nella realtà più prosaica anche più brutale dei dei nostri giorni. Ho letto l'intervista di di un scrittore inglese Howard Jacobson e il quale è uno scrittore usualmente taciturno come lo sono gli scrittori che necessitano di solitudine anche per la scrittura stessa però lui ha rilasciato una dichiarazione in cui dice sta succedendo di nuovo si è scatenato un pregiudizio universale nei confronti di Israele fatto insieme di bugie antichissime e di teorie alla moda. E fra l'altro eh ricorda parlando poi si ricorda nell'articolo anzi parlando poi di Pierpaolo Pasolini eh si dice eh si lamenta una frase di eh Pierpaolo Pasolini eh in cui egli si domanda retoricamente dice che aiuto stiamo dando al mondo arabo fingendo di ignorare la sua volontà di distruggere Israele? Ecco eh l'antisemitismo oggi dottor Disegni. Allora l'antisemitismo è un fenomeno che esiste da millenni e e quindi non è certo una novità nella storia è una realtà proteica nel senso proteforme nel senso che cambia eh in continuazione eh i modi di presentarsi e anche in uno stesso momento eh può avere origini e motivazioni differenti. Eh di fatto rappresenta eh l'ostilità nei confronti dell'ebraismo. Antisemitismo è un termine molto tra l'altro criticabile eh quasi paradossale in questi tempi perché semiti non sono soltanto gli ebrei semiti sono anche secondo la classificazione biblica anche eh i popoli arabi eh da cui purtroppo oggi deriva una componente notevole di opposizione nei confronti degli ebrei. E quindi a seconda dell'epoca a seconda delle situazioni si è rivestito di carattere eh politico eh religioso eh economico eh economico sociale razziale e ogni volta ha cambiato aspetto ma la sostanza poi è sempre quella l'ostilità nei confronti degli ebrei. L'ostilità che si esprime in due grandi filoni. Una l'ostilità eh di tipo proprio fisico non sopporto che gli ebrei esistono e quindi devo eliminarli fisicamente e l'altra è quella diciamo di tipo eh culturale. Culturale che significa che tutto ciò che gli ebrei rappresentano nel mondo con la loro modalità specifica di vedere la con la loro fede o in generale con il loro pensiero che è un pensiero eh non uniforme eh dialettico e e che non si adegua con facilità al pensiero dominante rappresenta una diversità che per molti è intollerabile e quindi eh gli ebrei e l'ebraismo eh nelle società che vogliono la omologazione in cui tutti quanti devono essere uguali eh tutti quanti devono vestire la stessa divisa quale che sia il colore della divisa eh gli ebrei almeno nell'immaginario sfuggono a questa a questa pretesa di omologazione e quindi come tali sono avvertiti come il il nemico. È una storia complessa e che ogni momento cambia ogni momento cambia. Sì sì in antropologia questo fenomeno che lei descrive è stato esaminato con la teoria del del capro espiatorio una parte dell'antropologia e della sociologia francese si sono dedicate proprio al tema. Senta eh recentemente ehm è stata fatta una ricerca poi pubblicata eh resa nota dall'istituto Cartaneo. In realtà questa ricerca aveva altri obiettivi però poi ha preso una piega particolare tant'è che il direttore dell'istituto Cartaneo poi ha spiegato che in qualche misura si era verificato il fenomeno dell'eterogenesi dei dei fini e si era entrati eh a parlare del del pregiudizio antisemita. Ehm sono stati intervistati gli studenti del primo anno di tre università della della Bicocca di di Milano, di Padova e di Bologna. E ebbene uno studente universitario su due richiene che il governo israeliano si comporti con i palestinesi come i nazisti si comportarono con gli ebrei. Ecco io eh ritengo personalmente insomma che un giudizio del genere sia assolutamente infondato e ingiustificabile però vorrei avere il suo parere a questo riguardo. Allora questa storia è vecchia e nasconde una un'esigenza psicologica perversa eh che è quella del ribaltamento totale delle prospettive. Eh l'Europa ha ha saputo produrre una una mostruosità che è stata la Shoah in cui sicuramente eh gli ebrei sono stati vittime e sei milioni di loro sono stati cancellati da una ideologia pazzesca che comunque era dominante. Eh secondo questa questa visione eh il risultato di questa visione è che gli ebrei sono sono carne da macello. Guai agli ebrei se pretendano in qualche maniera di difendere la loro esistenza in qualsiasi eh come se eh questo rappresentasse una offesa all'immagine che lei lo diceva prima il capo espiatorio mica si può difendere il capo espiatorio deve deve semplicemente farsi immolare perché così eh e se eh allora negare agli ebrei la possibilità di difendersi adesso c'è il problema dell'eccesso ma legare concettualmente significa fare di loro una categoria mentale che è destinata soltanto a farsi ammazzare. Allora questa situazione perversa eh non è di questi giorni e già ci sono i segni subito dopo la fine della Shoah ma quando nel 1967 c'è stata la guerra dei sei giorni in cui lo Stato di Israele è riuscito miracolosamente a salvarsi dall'attacco di eserciti da sopra e da sotto e e dal lato eh ci sono stati intellettuali intellettuali di altissimo peso e ideologicamente legati all'Unione Sovietica che hanno tirato fuori il fatto che gli ebrei da vittime sono diventati persecutori che è una aberrazione sia dal punto di vista storico ma soprattutto dal punto di vista concettuale perché eh si nega non solo si nega agli ebrei il diritto alla difesa ma eh c'è questo grandissimo meccanismo psicologico per cui si rimuove il senso di colpa cioè l'Europa che ha eh che ha prodotto il più grosso massacro da fatti nel corso dei secoli tanti ma poi ha culminato con la Shoah eh dovrebbe purificare eh dovrebbe migliorarsi e riflettere su quello che ha fatto invece in questa modo si assolve perché se le vittime sono dei persecutori allora hanno fatto bene a eliminarli e quindi dietro questa storia ci sta una una perversa volontà di ehm di uscire fuori dalle proprie responsabilità questo ragionamento che non fanno con altre cioè la la eh la gravità della cosa e che questo ragionamento non si fa con altre situazioni politiche non vuole fare il benaltrismo come si dice però ci sono una quantità di situazioni nel mondo che gridano vendetta eh sia dal punto di vista della quantità che della qualità dell'efferatezza che passano assolutamente inosservate e la gente non scende in piazza non diventano la prima notizia sui giornali eccetera eccetera invece c'è il chiodo fisso di pensare soltanto a una situazione allora riflettiamo che cosa c'è dietro c'è dietro una coscienza una coscienza una coscienza malata c'è una disinformazione c'è una grandissima macchina propagandistica che guida che guida tutto quanto questo tutto è l'interesse di di alcuni e di alcuni grandi centri di potere di eh anche perché se si parla di certe cose non si parla di altre che possono essere ben più gravi e così via senta le chiedo anche questo perché io so che in questi giorni in molte università particolarmente in quelle americane eh si hanno delle manifestazioni a favore della Palestina forse in certi casi si è anche ehm esibito le la bandiera di Hamas e io veramente sono rimasto molto perplesso da da questi accadimenti e pur tuttavia una riflessione mi è sorta spontanea che forse sono proprio le persone più istruite che in questo giorno sembrano essere le più confuse perché qua siamo a livello universitario e in fondo eh se pensiamo alla Shoah e soprattutto all'avvento del nazismo negli anni trenta la Germania era una nazione molto evoluta sia sul piano della scienza sia sul sul piano delle discipline umanistiche ecco ma è possibile proprio che eh le persone eh diciamo così più colte quelle apparentemente più evolute siano anche le più confuse a questo riguardo eh c'è una riflessione su questo argomento eh quello che sta succedendo nel caso specifico eh del del conflitto israele palestina e e questione ebraica è in realtà un aspetto particolare di un fenomeno molto più globale che è quello della colpevolizzazione dell'Occidente l'Occidente eh si dice non può insegnare la morale a nessuno perché l'Occidente è responsabile di cose gravissime eh di orrori del passato eh metti il razzismo la tratta degli schiavi e così via quindi l'Occidente non si può permettere di dire nulla perché ha fatto delle cose terrificanti e e su sta storia del razzismo per esempio ci sta un'ipertrofazione di questa cosa certo il razzismo c'è stato ma il razzismo non è nelle dimensioni con cui viene presentato chi è che fa questa operazione l'operazione è fatta in concerto tra due parti ci sono eh università intellettuali con grandi curricula eh che sostengono questa tesi che poi diventa una tesi assolutamente intollerante e e poi c'è chi gongola dall'altra parte che sono dei regimi autoritari dove si commettono ogni giorno eh enormi eh 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 fatti eh contro la dignità umana eh e che si difendono dicendo voi non potete protestare perché avete fatto di peggio quindi praticamente eh c'è una grossa corrente intellettuale che in alcune università americane eh eh sta prendendo il sopravvento e tra l'altro lo fa in maniera assolutamente intollerante intollerante cioè ci sono questi i grandi tolleranti che si manifestano che si eh che si caratterizzano per violenza verbale e non solo verbale e sono i grandi i grandi predicatori della tolleranza questo diciamo una situazione malata e e che ci siano degli intellettuali eh malati intellettualmente come l'esempio che face lei è assolutamente non è una novità il fatto di essere una persona che ha studiato non lo libera dalla possibilità di dire delle grandissime corbellerie senta io in questi giorni glielo dico come uomo di scuola anche se sono in pensione attualmente però ho fatto il dirigente scolastico in questi giorni sta girando nelle chat scolastiche anche in quelle soprattutto in quelle non ufficiali una lettera eh di movimento degli studenti che invitano i dirigenti scolastici presidi e i docenti a prendere posizione contro questo massacro anzi contro il genocidio che viene perpetrato ai danni dei palestinesi guardi gliene leggo un pezzo così come si allora i palestinesi sono vittima di di questo genocidio così come la popolazione ebraica si è trovata braccata per secoli a casa propria ovunque essa fosse in giro per il mondo ma decontestualizzare sarebbe gravissimo precisano non si può sicuramente identificare in Hamas tutta la popolazione palestinese però eh è opportuno insomma che le scuole i dirigenti scolastici i docenti prendano posizione non le nascondo che a me come ex dirigente scolastico la cosa eh provoca un qualche fastidio perché io penso che ehm la scuola i dirigenti scolastici i docenti non debbano prendere posizione ma debbano seguire piuttosto la lezione deberiana per cui si tratta di fornire agli alunni eh una situazione tale perché poi gli alunni maturino e lavorino autonomamente delle posizioni però questo è il mio modo di vedere le cose da uomo di scuola eh lei che cosa direbbe a questi alunni che invitano scuole dirigenti e docenti a prendere posizioni? Allora eh intanto vorrei fare riflettere su una cosa a proposito del discorso che si è fatto prima l'uso delle parole eh la parola genocidio in questo caso è assolutamente fuori posto non ha nessun riscontro eh con la realtà ed è uno dei meccanismi quello dell'uso della parola per eh cancellare il vero eh genocidio è un modo per ribaltare completamente la realtà quindi noi siamo di fronte a esagerazioni e falsificazioni propagandistiche di cui la provenienza è una sorta di velina che gira e che viene eh riproposta in maniera assolutamente eh assolutamente così acritica e che deriva fondamentalmente da una sistematica campagna di disinformazione che cosa io direi a un dirigente scolastico eh di spiegare e di dare le possibilità alle persone di agli studenti di crescere e di valutare criticamente perché quello che ha valutato cioè la scuola dovrebbe portare a educare alla critica a una coscienza critica a un atteggiamento critico non lo devo spiegare a lei che è stato dirigente scolastico e e quindi la prima cosa che va criticata è un documento del genere cioè cosa c'è dietro cosa l'ha ispirato quali sono i problemi concettuali da dove viene quando noi vediamo una fotografia fa vedere una fotografia la fotografia ha un impatto ma poi uno dice guarda c'è il trucco c'è quello c'è quell'altro eh c'è bisogna educare le persone se uno va a scuola non deve soltanto imparare le nozioni deve deve maturare la sua coscienza critica e proprio su questo che bisogna che bisogna assolutamente investire e lavorare e purtroppo è difficile farlo poi ci sono le passioni ci sono le tensioni senta ehm ho letto recentemente ehm il testo intitolato dieci parole di Haim Barie questo filosofo teologo che suppongo lei conosca ad un certo punto ehm si parla di adulterio queste dieci parole sono il decalogo che Barie interpreta più come promesse che non come eh severe eh prescrizioni questo è quello che lui dice insomma nella sua ermeneutica del del decalogo però a un certo punto mi ha colpito perché parla di adulterio e eh dice questo l'adulterio è pensare di fare tua la donna che pensi appartenga all'altro mentre la proprietà non è di nessuno se non della donna stessa questa è una visione diffusa che eh della donna nel mondo ebraico che la donna non è di nessuno se non di se stessa e l'adulterio questo peccato consisterebbe nel nel cercare di di far propria la donna di un altro che che quell'altro considera sua propria eh sua proprietà allora Barie è un pensatore affascinante e questo non vuol dire che tutto quello che dice possa essere condivisibile mi pare che in questo ragionamento se l'ho capito bene ci sia pure una contraddizione perché se la donna è padrona di se stessa non è non può essere eh proprietà di un uomo o di un uomo o di un altro uomo e quindi questo ragionamento non così adesso l'ho sentito non mi non mi funziona bene se se dobbiamo eh dare una definizione diciamo più tradizionale sul tema della proprietà nessuno è padrone di se stesso nel senso che la nostra proprietà è comunque limitata e il corpo è mio ci faccio quello che mi pare non è un concetto proprio della tradizione religiosa ebraica il corpo che noi abbiamo avuto è più che un dono un prestito e che dobbiamo conservare tutelare e restituire nella migliore possibile dopo il locorio degli anni a chi ce l'ha dato e questo fa sì che la proprietà è limitata non è assoluta e poi si stabiliscono dei patti di eh compartecipazione nel senso che eh e anche il vincolo diciamo nuziale è in questo senso è una associazione tra un uomo e una donna per lo scambio eh mutuo di di servizi tra cui c'è anche la fedeltà e quindi l'adulterio in qualche maniera è un tradimento di questo patto di fedeltà eh la vedo così eh sul tema della proprietà quello che dice Bario ho qualche doppio ecco però vedete nel mondo ebraico esiste la dialettica eh nessuno pretende di avere in tasca la verità assoluta ognuno dice una cosa e subito dopo c'è un altro che lo contraddice così funziona nell'ebraismo anche dal punto di vista politico perché tutti pensano ai blocchi monodici ma no assolutamente c'è un c'è un una lacerazione profondissima su tutto beh questo lo si vede chiaramente anche in Israele dove diciamo così il pluralismo politico è evidente praticamente tutti i giorni dietro qualsiasi scelta noi abbiamo l'idea di di una pluralità e anche di una divergenza talvolta anche molto forte tra i punti di vista della politica israeliana senta vorrei rimanere per un'ultima domanda sul tema della donna se se posso io trovo gravamente contraddittorio il fatto che molti italiani siano una parte non molti eh delle forze politiche si sentono vicini ai palestinesi ma in particolare a massa eh che hanno mi sembra una visione della donna islamista quindi una visione della donna che probabilmente da da noi in occidente eh non è tollerata e non è considerata tollerabile che cosa ne pensa lei di questo? Guardi è successo proprio qualche giorno fa eh che c'è stata una grandissima manifestazione a Roma contro la violenza sulle donne che è una manifestazione che si svolge periodicamente a una data precisa dell'anno e che quest'anno ha richiamato molte più persone del solito perché eh c'era l'impatto micidiale della fine di questa povera ragazza Ilaria e che che ha commosso tutti quanti per cui tantissimi e tantissime sono scese in piazza una di queste organizzazioni non una di meno si chiama eh e c'è se in piazza con un proclama eh nel quale in una maniera assolutamente scandalosa e gravissima praticamente ha omesso un episodio terrificante che c'è stato un episodio una tragedia collettiva che è stata quella del del 7 ottobre nel quale eh questi 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 gruppi che hanno invaso Israele da Gaza hanno commesso ogni sorta di efferatezze tra cui stupri collettivi di donne e il paradosso c'è stato che eh si scende in piazza per protestare contro la violenza delle donne ma se queste se le donne violentate sono dell'israeliano e dell'ebrei questo non deve essere denunciato anzi sono scesi in piazza con le bandiere palestinesi qua abbiamo una un paradosso una poria totale per cui se si divide il mondo tra buoni e cattivi tra oppressi e oppressori secondo una visione mitica della della divisione ai buoni è consentito fare qualsiasi porcheria è consentito al terrorismo almeno lo si può giustificare se invece uno dovesse ragionare che non si fa violenza sulle donne non è mai consentita né ai buoni né ai cattivi allora c'è proprio questa cecità assoluta di questo mondo diviso e manichimeo diviso da una parte e dall'altra dove se uno sta nella categoria presunta degli oppressi o degli occupati può fare tutto può essere il più becero fondamentalista che non ha nessun rispetto per la dignità delle donne dei diritti umani tutto ciò in cui l'occidente ha costruito malgrado le sue enormi contraddizioni in millenni di storia dolorosa eppure è permesso tutto questo è il 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 paradosso dell'attuale situazione e bisogna rifletterci bisogna denunciarlo queste cose senta dottor disegno io la ringrazio tantissimo di di questa intervista e la saluto grazie davvero e a presto grazie